Il trofeo monomarca Guzzi nasce per riportare in pista un marchio storico e glorioso come Moto Guzzi che da tanti anni è lontano dalle competizioni. Lo facciamo con la formula fast endurance che è una gara di un'ora che si svolge con due piloti che è molto bella e appassionante con il cambio pilota, la partenza stile Le Mans cioè le moto da una parte e il pilota dall'altra che corre a prendere la moto si parte, dove è molto importante più che la velocità del singolo la velocità della coppia, il team. Il kit che abbiamo sviluppato trasforma veramente la V7 che è una moto da strada in una moto da pista sia per dei piloti che vanno già in pista che per dei piloti neofiti. Il campionato si svolgerà in cinque gare, ogni gara della durata di due giorni, sabato le prove, alla domenica la gara. Partiremo ad aprile con la gara di Varano per poi andare a Vallelunga, a Magione, a Adria e finire a Misano che è una pista internazionale a livello mondiale. Il kit sviluppato da noi è composto da una parte di carrozzeria che è il cupolino anteriore con il vetrino, i due fianchetti laterali, la sella monoposto, le due tabelle portanumero e il fango posteriore. Da una parte di ciclistica, il set di cartucce degli ammortizzatori anteriori, i due ammortizzatori posteriori, le pedane poggiapiedi, i due semimanubri e un set di pastiglie appositamente studiato per l'endurance. È una parte di motore che comprende il kit, scarico completo, la mappatura della centralina, il filtro dell'aria, il coperchio del filtro dell'aria e i due particolari di sicurezza che sono il sottocoppa e il paraleva anteriore del freno. Un altro valore aggiunto di questo trofeo è che la Pirelli ha sviluppato un set di gomme particolari per questa moto che sono fatte apposta per l'endurance che garantiscono la durata di tutto l'weekend, gare e prove comprese e un grip veramente da gomma da pista. Vi consiglio di venire a fare questo trofeo perché dà l'opportunità a diversi piloti di tornare in pista o di andare in pista con una motoguzzi, cosa che io ho provato e che mi rende veramente orgoglioso e poi anche per il fattore economico perché comunque abbiamo fatto un pacchetto che è veramente accessibile a tutti. Non ci resta che vederci in pista, sono sicuro che saremo molto numerosi e ci divertiremo, ne potete essere certi.